Luca Paninchi Questa è un'associazione di cui noi valdarnesi siamo orgogliosi perché è un'associazione che ha contribuito in maniera straordinaria non solo alla sensibilizzazione ma anche all'aiuto concreto Roberta perché vogliamo ricordare il 2013 è stato un anno importante per il Calcet, c'è stata la scena qualche settimana fa abbiamo ricordato dello straordinario risultato della radioterapia. Sì Calcet Valdarno, poi il Calcet è una realtà diciamo in Toscana ce ne sono credo sei Calcet Non tanti eh? Sì Due in provincia di Arezzo Due in provincia di Arezzo Arezzo, no sono di più in provincia di Arezzo C'è Calcet Arezzo, Calcet Valdarno che siamo noi dieci comuni della provincia di Arezzo E poi c'è Calcet Valdichiana e Calcet Casentino E poi c'è Valdarno Fiorentino E poi c'è Calcet Valdarno Fiorentino E quindi Calcet, il nostro Calcet nasce nel 91 E quindi si è adoperato sempre per il sostegno diciamo alla malattia oncologica E proprio come dicevi tu il 25 maggio del 2013 abbiamo completato diciamo la cura oncologica nel nostro territorio Per l'ospedale Santa Maria alla Gruccia diciamo regalando insieme alla regione toscana, all'azienda sanitaria La stazione di radioterapia che ricordo appunto i cittadini del Valdarno hanno contribuito con 2 milioni di euro E la regione l'ha adottato per i restanti 5 milioni Quindi diciamo è stato un risultato importantissimo Una lunga storia, una lunga storia che parte dal 2004 Quindi in un momento in cui sembrava poi tutto andato a monte Ce l'abbiamo fatta grazie alla nostra conferenza dei sindaci A riprendere in mano questo servizio che prima doveva esserci e poi non ci doveva essere E siamo arrivati all'inaugurazione Quindi noi abbiamo sempre creduto da quando abbiamo costruito il centro oncologico in sinergia con l'azienda sanitaria Abbiamo creduto in questo territorio che questo territorio, il Valdarno nostro, diciamo, rappresentato come istituzione sanitaria Dall'ospedale di Santa Maria Lagruccia Avesse la cura totale, gli strumenti per la cura totale della malattia oncologica Che io non sono una dottoressa, faccio tutt'altro cosa nella vita Però che si curano con la chemioterapia e la radioterapia Ecco, questo è ormai un dato di fatto che insomma lo sappiamo Quindi volevamo che il nostro territorio avesse queste cose Queste cose in un territorio che vanta 105.000 abitanti E quindi come tale già dagli anni 90, del 92 Io porto sempre, ad esempio, diciamo anche la mia dedizione anche a questa associazione Mi è morto un carissimo amico, come si dice da noi in Toscana, il ritratto della salute Ecco, io in caso ho avuto degli episodi, diciamo, mi è morta, io non conoscevo la nonna paterna nel 46 E sia mio babbo che mia zia, mi dicevano sempre, la malattia, il tumore, vissuta a un'età proprio piccola Hanno avuto sempre questo spettro di questa malattia E quindi diciamo, poi inizi nel 91, quando è nato il calcio e tevaldano Questa malattia non aveva poi questa grande diffusione Da quando mi è morto questo mio amico nel 92, iniziò la malattia Nel 93, dissi, questa cosa fa paura E da allora inizi a vedere che comunque sia, ecco, i casi stanno aumentando E porto sempre ad esempio e dico, il calcio e tevaldano è cresciuto ma è cresciuta la malattia E quindi come tale non dobbiamo mai abbassare la guardia su questa cosa E cercare, nell'ambito delle nostre possibilità, delle nostre competenze Ecco, di essere utili in sinergia con l'azienda sanitaria A tutelare il territorio su questa malattia Ci stiamo impegnando, ci stiamo, questo è grazie ai grandi cuori cittadini del Valdarno Io faccio da portavoce, da tramite, di una grande squadra E quindi, e ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto il centro oncologico Abbiamo fatto la stazione di radioterapia Sosteniamo la borsa di studio per la mappatura dei nei Sosteniamo il servizio del progetto SCUDO Quello che ci costa appunto 120 mila euro l'anno e che va appunto a sostegno della malattia cronica L'assistenza domiciliare integrata E stiamo studiando poi anche altre iniziative da condividere E abbiamo proprio da poco concluso anche il progetto di MusiCurando Proprio la musicoterapia rivolta ai pazienti oncologici Nel nostro centro, qui al centro oncologico dell'ospedale Santa Maria della Gruccia Quindi gli impegni sono tanti e sarebbero tante cose in più da fare Però il momento, insomma, è quello che è però Al momento il calcetto Valdarno c'è E si spera che in un futuro ci sia sempre E fiduciosi anche che questa malattia in un futuro Possa essere quasi, diciamo, devellata Dopo ne parliamo con l'alto esse Ne parlavo con Roberta alla scena Nonostante la crisi economica I valdarnessi hanno continuato in questi anni A aiutare concretamente il calcetto Valdarno Questo credo che sia un ulteriore e straordinario risultato Perché purtroppo sappiamo tutti che molte famiglie Faticano ad arrivare alla fine del mese Ma nonostante questo Un aiuto al calcetto c'è Ma infatti anche per me che faccio parte dell'associazione Mi meraviglia, infatti, in un momento così di crisi Evidente a tutti, diciamo, sopportata da tutti Ancora abbiamo, diciamo, cittadini che ci sostengono Perché i nostri bilanci, diciamo, ormai sono stabilizzati in una cifra Che in effetti non vediamo nessuna, diciamo, riduzione E questa è la testimonianza che il valdarno Perché poi noi siamo, diciamo, portatori di risorse Che i cittadini ci offrono Mettono a disposizione E noi, diciamo, come amministratori Li mettiamo a disposizione Per migliorare il servizio, diciamo, del nostro ospedale Che sta nell'oncologia Come appunto la Roberta ha rappresentato Quindi anche per me, diciamo, una meraviglia Che tutto questo fatto, diciamo, economico Che sta, diciamo, creando forti problemi I cittadini però trovano sempre Diciamo, lo spazio per poter lasciare qualche cosa A favore della nostra associazione E questo è un fatto positivo E proprio per questo anche l'associazione È di grande, diciamo, sostegno Al nostro ospedale Perché i nostri cittadini ci seguono Ci sostengono E finché c'è questo, diciamo, entusiasmo Noi pensiamo bene di essere presenti sul nostro territorio E di dare veramente una mano A combattere questo, diciamo, male Che purtroppo sta, diciamo, creando grandi problemi Nel valdarno e nel mondo Perché purtroppo oggi si vive molto di più Ma, diciamo, anche i tumori sono sempre maggiori E questo, diciamo, è il problema Che c'è nei numeri E noi come Calcet vogliamo essere presente Vogliamo essere di sostegno Affinché questa malattia si riduca A minimi termini come, diciamo, problema Dottoressa Di Leonardo Quando qualcuno le dice Tumore, malattia incurabile È davvero così? O oggi davvero, come ha detto anche recentemente Il professor Veronessi Non si può più parlare di malattia incurabile Almeno in alcuni tipi di tumore Certo Allora, intanto Non esiste un tumore incurabile Curiamo tanto Curiamo molto Probabilmente La gran parte dei tumori è inguaribile Nel senso Non riusciamo ad ottenere In molti casi Troppi ancora Una vittoria definitiva Come dico sempre ai miei pazienti Non è come la polmonite Prendi l'antibiotico Si pulisce tutto Ed è come se non l'avessi mai avuta Ma curare sì Curare che può significare Togliere dei sintomi Curare che può significare Evitare che una malattia operata Possa tornare Curare che può significare Allungare la sopravvivenza Quanto più possibile O trasformare Una malattia Che altrimenti avrebbe Dei ritmi di crescita importanti In una malattia cronica Con cui convivere A volte cominciamo a vedere Anche per dei tempi Che in passato Erano Insperabili Quindi Curare sicuramente Sì Quasi tutto Direi O buona parte Di ciò che anche Solo dieci anni fa Ritenevamo difficilmente Controllabile Con le nostre armi Tante innovazioni Ultimamente Sta cambiando un po' La filosofia Di trattare Le malattie oncologiche Sempre più Si va A cercare Di capire E di conoscere meglio Dal punto di vista Proprio biologico La malattia tumorale Che ci accorgiamo Sempre di più Essere diversa Non solo Nei vari tipi di tumore Nei vari apparati Ma quasi diversa Da paziente a paziente Cercare di personalizzare Individualizzare Sempre di più La terapia Scegliendo Quasi con un meccanismo Di chiave E serratura La medicina più adeguata In alcuni casi Questa meta è ancora Molto lontana In altri casi Come nel caso di Luca Stiamo utilizzando Un farmaco Nuovo Che come ho detto prima Ci dà molte soddisfazioni E che si muove Proprio in questo scenario Ma sempre di più Tanta tanta fatica Tanta tanta ricerca Perché veramente Bisogna fare lavori enormi Per arrivare ad avere Un risultato Eccellente Ma che poi riguarda Magari il 3% Dei pazienti Che hanno quella patologia Però per ognuno Di quel 3% Di pazienti È la propria vita È il 100% Sono il 100% Dei propri giorni Del proprio benessere E quindi assolutamente Vale la pena Dottoressa Grifoni Quando si dice Ci sono delle malattie tumorali Che possono essere prevenute Con uno stile di vita migliore Quindi una dieta equilibrata Non fumare Come diceva lui Ecco quanto incidono Questi fattori Nella Nella E anche magari Lo stress quotidiano Il vivere una vita Completamente frenetica Come la nostra Sempre in mezzo ai problemi Con lo stress Può influire questo? Questo effettivamente Può influire Le conoscenze Inerenti L'argomento Con il passare del tempo Si accumulano Ma effettivamente Le più Recenti In qualche modo Anche aggiornate Statistiche Ci suggerivano Che 7 tumori Su 10 Potrebbero essere evitati Con uno stile di vita Assolutamente irreprensibile Quindi facendo attenzione A quella che è l'alimentazione Quindi evitare grassi In maniera eccessiva Evitare carni Particolarmente elaborate Evitare gli alcolici Evitare il fumo E per parlare del fumo Non soltanto il fumo attivo Ma ci può essere un effetto Chiaramente nocivo Anche per quel che riguarda Il fumo passivo E come scusa Evitare del tutto O dosare? Evitare del tutto Quindi alcolici Evitare del tutto Insaccati No no Esattamente Esattamente No no Vabbè Per sapere Esattamente Per quel che riguarda il fumo Luca a parte Che è la nostra eccezione L'abbiamo capito Il fumo è responsabile Attivo Dell'80-85% Dei casi Di tumori del polmone Il fumo passivo Del 20-25% Dei casi Quindi Sono delle percentuali Comunque Importanti Nella consapevolezza Del tumore del polmone Da quando è entrata in vigore La legge sul fumo Sono diminuiti i casi Di tumori Nella realtà Si è sottolineata Una differenza Di andamenti Tra i due sessi Quindi il sesso maschile E il sesso femminile Per quel che riguarda Il sesso maschile C'è stato Un arresto Nell'incidenza Quindi il numero Di nuovi casi Per anno Nel sesso femminile C'è invece Una tendenza Alla lenta Ma progressiva Crescita Perché le donne Hanno iniziato Esatto A far più Propria L'abitudine Al fumo Ecco Quali sono A meno in Toscano In base alla sua esperienza E i tumori più diffusi Ristichiamo in Toscana In Italia Assolutamente La media Dei paesi Industrializzati Quindi Abbiamo quelli Che chiamiamo Big killer Cioè tumori Frequenti E che molto spesso Diventano tumori Fatali Che sono Il tumore del polmone Il tumore dell'intestino In primis E il tumore di mammella Poi abbiamo Una serie Di malattie Tra cui il tumore De mammella All'inizio Che sono molto frequenti Ma possono essere Colti in una fase Molto precoce Attraverso dei programmi Di screening E quindi Se anche molto frequenti Stanno sempre diventando Meno killer Perché si riesce A curarne molto di più Anche se si diagnostica Molto più spesso La malattia E con i programmi Di screening Ad esempio in Toscana Con la prevenzione La mammografia Chiaramente La mortalità Per questo tipo di tumore Viene abbassata Poi un altro tumore Inaspettatamente Molto frequente Il tumore di prostata Perché allungandosi L'età media Della popolazione Un tumore che cresce Con l'età È molto diffuso Però poi ha Una storia Particolare Per cui spesso Non è una di quelle Malattie Che rapidamente Porta a conseguenze fatali Molto spesso Indolente Quindi c'è tutto Uno spettro Variegato Comunque queste Sono quelle Più frequenti Che sono nella media Dei paesi industrializzati Ecco parlava prima Dell'innovazione La tecnologia Ha fatto passi da giganti Anche da questo punto di vista Rispetto anche a dieci anni fa Rispetto anche a dieci anni fa E diventano sempre più rapidi Sempre più rapide Le innovazioni Tanto che si fa anche Molta fatica A star dietro A tante novità A volte si fa fatica A mettere insieme Le tante informazioni Che vengono Che vengono magari In maniera disordinata E quindi In un tumore Come quello del rene Dove Fino a otto anni fa Cinque anni fa Più o meno Non si avevano farmaci Ora ne abbiamo Quattro o cinque E discutiamo Di come utilizzarli In sequenza E ora Chiaramente Non è la risoluzione Non vinciamo Definitivamente Le partite Però sicuramente Modifichiamo La storia Di queste malattie Ripeto Le innovazioni Sono tante Ed è bello Vedere un cambio Di filosofia Cioè siamo passati Dal tentare Di dare Delle clavate In testa Alle cellule Impazzite E ottenendo Dei risultati A volte buoni A volte Meno buoni A volte Nessun risultato Siamo passati A capire Che dobbiamo capire Le cellule Come si sono Alterate Per poter Un po' Farle tornare O alla normalità O perlomeno Arrestarne la crescita E combatterle Pubblicità E poi L'ultimo blocco Di decode Grazie a tutti Grazie a tutti